Venerdì sera, locale affollato e cucine a pieno ritmo al piano terra. Nell'ufficio al primo piano ladri armati di mazza da baseball e flessibile per scassinare la cassaforte. Il personale se li è trovati davanti quando sono scesi. Hanno accenato una reazione ma la banda è fuggita nei campi. Il roccambolesco furto alla lateria per Enzindi via Cervano a San Pietro di Feletto. Venerdì sera alle 10.30 i miei cuochi escono come fanno sempre a quell'ora e uscendo sul retro del locale hanno visto tre persone scendere in maniera molto agile dalla terrazza attraverso una grondaia. Proprio in due secondi sono scese. Uno aveva la mazza da baseball e uno aveva in mano un pacco che poi si è capito essere stato un flessibile a batteria che hanno usato di sopra per andare a segare a metà la cassaforte. Hanno rovistato qua e là e poi se ne sono andati con un ingente bottino. Malgrado parte del denaro l'abbiano perso durante la fuga. Dobbiamo ancora quantificare esattamente una strada di migliaia di euro. Sono stati bravi devo dire perché eravamo sotto il ristorante tutti quanti o il cheese bar e il ristorante avevamo 70 persone. Casualmente ero lì anch'io perché di solito salgo e scendo da quell'ufficio lì anche fuori orario fino alle 10.11 di sera e sono stato forse fortunato io o forse fortunati loro a non incontrarmi. Anche nel coneglianese aziende e locali si sentono sotto assedio e poco tutelati. Queste persone lo fanno di mestiere quindi vanno dentro un po' dappertutto e poi cercano, trovano e se non trovano pazienza andranno in un'altra parte. Purtroppo è così e non c'è una tutela, non c'è un sistema che controlli queste persone che nulla facenti che vanno in giro, questo è il problema.